Bentornati su Zupabs. Oggi visiteremo il poetico mondo de' la cicogna e i suoi cuccioli. Sapete che la cicogna è l'animale noto per portare i neonati nella leggenda? Era il quesito ricordate? Sì. Sono da sempre simbolo di fertilità e di costruire in coppia i loro nidi giganti sui camini e campanili. Ma sapete che le cicogne possono volare a grandi altezze senza battere le ali? I cuccioli di cicogna sono goffi. A volte inciampano e cadono dal nido, ma le loro ossa sono morbide e flessibili, quindi non si fanno male. È ora del quesito. Qual è l'animale che può raggiungere una larghezza di oltre 7 metri e che vive negli oceani di tutto il mondo? Lasciate un like. A presto!